Penso che non esista un modo migliore per festeggiare la vittoria odierna con il tuo Eurogoal, cosa ne pensi? Sono molto contento, è stata una situazione provata ieri in allenamento, è andata bene però quello che conta oggi era vincere, ci siamo riusciti contro una buona squadra e adesso prepariamo nel migliore dei modi la partita con il Benevento e pensando subito da domani. L'impressione è che la sosta sia stata importante per mettere benzina nelle gambe e amalgamare ancora di più gli schemi voluti dal mister. Sì, siamo una squadra nuova quindi ci ha fatto sicuramente bene questa sosta perché comunque ci ha fatto conoscere ancora meglio. Ripeto, era fondamentale la vittoria di oggi perché ci dava valore soprattutto ai due punti fatti nelle partite precedenti. Sono partito dal tuo gol, concludo con la tua sostituzione, tanti applausi, hai conquistato ormai il pubblico della Rechi? Fa piacere sicuramente ricevere tanti applausi, io lavoro tutti i giorni in allenamento per cercare di migliorare e poi per farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa dal mister.